Ultimo posto, ma vietato a rendersi. 15 partite alla fine, 45 punti a disposizione. Non si potrà assolutamente prescindere dal cuore, dalla carica agonistica, dalla bis pugnandi, al di là di numeri, formulette e sistema di gioco. Lo abbiamo sempre detto, lo ribadiamo anche ora, per le caratteristiche dei centrali, piuttosto lenti e dei terzini, in realtà quinti e dunque più inclini a spingere che non a difendere, questa squadra fa una fatica immane a giocare a quattro. Al debutto sulla panchina biancazzurra Gianluca, Grassadonia non derogherà, almeno per la sfida di Frosinone. 3-5-2, il probabile 11, Fiorillo Trepali, nel cuore della difesa con Scognamiglio e l'ex Sassà Bocchetti, Gut o Drudi, infortunatosi un girone fa lo scorso 24 ottobre proprio col Frosinone all'Adriatico. Bellanova e Masciangelo sulle fasce a metà campo, forse Macin nel ruolo di interno, in realtà un ritorno al passato, Valdifiori in cabina di regia, Busellato al rientro dopo la squalifica, mezzala destra, davanti Galano con Odgard. Indisponibili Memusciai, Rigoni, Riccardi, Sorensen, Gennetti, Setter e lo squalificato Balzano. Credo in un'organizzazione di gioco, credo nel lavoro settimanale, cercare di migliorare la lunghezza tra i reparti, cercare di capire cosa bisogna fare in mezzo al campo. Insomma, questa è una squadra che ha qualità ed è per questo che ho accettato con grandissimo entusiasmo questa sfida, perché sono convinto che ci siano tutti i presupposti per cercare di lottare fino alla fine e di arrivare all'obiettivo. Affrontiamo una squadra esperta, una squadra che ha qualità, una squadra che gioca insieme da un paio d'anni, in settimana ha fatto una vittoria importante e noi dobbiamo giocare da Pescara, darcela a giocare conoscendo quali sono i nostri pregi, in questo momento i nostri difetti, ma con il coltello tra i denti. I numeri sono impietosi, 17 punti, ultimo posto con l'entella, peggiore attacco, 18 gol, difesa più perforata, 41 maggior, numero di sconfitte, 14. Ad incidere e non poco la pesantissima zavorra dei set K.O. nelle prime nove giornate. Breda era riuscita a fare il massimo sino alla trasferta di Reggio Emilia. Era il 4 gennaio, Pescara fuori dai play-out, 12 punti in otto gare, quindi l'inatteso, inspiegabile, crollo, 5 sconfitte e un pareggio. Senza i punti della gestione Breda, il Pescara avrebbe già dato addio alle speranze e salvezza. Ora serve un'impresa, Grassadonia cercherà di dare al 3-5-2 un'impronta più offensiva. Il calendario non è rassicurante. Dopo il match con i Ciociari, Lecce in casa, Cittadella fuori, spalla all'Adriatico e Pordenone in trasferta. Allo stirpe, Frosinone tutt'altro che irresistibile. Appena tre vittorie, una in più del Pescara, l'11 di Nesta ha appena 9 punti nelle ultime 11 gare, proprio come i Biancazzurri non vince in casa dal 5 dicembre. 3-2 Colchievo ed è tornato a flertare col successo domenica scorsa. 3-2 sul campo dell'Entella, indisponibili Ciano, Millico, Tribuzzi, Brignola e Delia. Il probabile 11, Bardi, Trepali, Brighenti o Siminski, Ariaudo e Capuano in difesa. Salvi e Zampano sulle fasce, Rodien, Maiello e Castanos a centrocampo. In attacco il tandem Iemmello-Novakovic. 4 gli ex Capuano, Zampano, Castanos e Carraro. 11 i precedenti a Frosinone. 5 vittorie, altrettanti pareggi, un solo successo del Delfino. Quasi 70 anni fa, in quarta serie, dicembre 1951, 0-1 gol di Palpacelli. Nelle immagini, 20 novembre 2010, Serie B. Il giorno dell'esordio di Marco Capuano, terzino sinistro nel 4-5-1 disegnato da Eusebio Di Francesco. Si gioca per 45 minuti, campo impraticabile, causa pioggia, match sospeso. Prosecuzione, dieci giorni dopo, il 30 novembre. Prodezza di Gianluca Sanzone, 1-0 Frosinone. Il pari di Pippo Riccardo Maniero, subentrato a Luca Ariatti, e ispirato da Andrea Gessa, altro ex della partita.